Nel caso in cui un privato contesti la realizzazione di un abuso di dirizio, l'obbligo della pubblica amministrazione di attivarsi scatta solamente se la contestazione è effettuata in forma scritta e con l'indicazione, seppur sintetica, della lamentata illegittimità dell'intervento edilizio. Ciò in quanto solamente i sopra menzionati requisiti sono tali da rendere la segnalazione idonea a porre in capo alla pubblica amministrazione l'obbligo di esercizio del potere e non solo anche a configurare, anche nell'ipotesi di inerzia della parte pubblica, un silenzio in adempimento giuridicamente rilevante censurabile innanzi al giudice amministrativo.